È un artista che da 30 anni usa la fibra ottica e ne fa il mezzo per eccellenza, il mezzo di lezione per parlare di contemporaneo oggi, ma anche in questo caso di rapporto con l'antico oggi qui presso Palazzo Lombardi, presso Sugar. L'arte luminosa di Carlo Bernardini a cura di Fabio Migliorati illumina Palazzo Lombardi. È una specie di cortocircuito mentale, però il lavoro di Bernardini fa anche questo, ci fa vedere cose che non ci sono e normalmente non consideriamo. Il suo lavoro circonda, circoscrive il nulla, il niente e lo fa esistere di fronte a noi attraverso poetiche dei poliedri illuminati, attraverso geometrie non euclidee, attraverso questo tipo di rapporto. In questi spazi, oltre ai mosaici romani scoperti anni fa, che custodiscono la memoria più recente di importanti mostre d'arte contemporanea, adesso trovano spazio anche queste sculture, veri e propri disegni di luce. I miei interventi visivi di luce tendono a trasformare lo spazio per creare delle dimensioni invisibili, più che altro è un disegno nello spazio che cerca di plasmare il vuoto dello spazio per introdurre lo spettatore all'interno di un'altra dimensione, una dimensione invisibile, cambiando le coordinate percettive del luogo e quindi trasportandolo all'interno di coordinate differenti che sono quelle di un disegno nello spazio.